Prevista entro l'autunno l'inaugurazione del corridoio EUR Laurentina Torpagnotta, proseguono infatti i lavori per il completamento dell'infrastruttura con la realizzazione della rampa di accesso al viadotto sul grande raccordo anulare. I 45 filobus rimessi in strada dopo anni di abbandono verranno riposizionati sul loro tracciato originario collegando in maniera rapida ed ecologica i quartieri a sud dell'EUR con la metro B. Nel parco Falcone Borsellino nell'ottavo municipio sorgerà un playground. Sarà a disposizione di bambini e famiglie e valorizzerà il verde avvicinando i cittadini allo sport. Il progetto è finanziato attraverso il fondo Sport e Periferie per realizzare un'area giochi in ogni municipio. Roma Cares, la fondazione della S Roma, dona un defibrillatore a 15 strutture sportive, una per ogni municipio. L'iniziativa denominata Calcio con il Cuore, patrocinata da Roma Capitale, vuole promuovere le corrette pratiche di pronto soccorso e mettere in sicurezza gli impianti. Saranno coinvolti e formati da operatori esperti anche i più giovani con esercitazioni pratiche.